Nel corso degli ultimi giorni, in concomitanza con lo svolgimento delle festività mariane nel Capoluogo, si sono verificati cinque sbarchi per un totale di 359 migranti giunti sul territorio della provincia, fra cui circa 55 minori stranieri non accompagnati, in gran parte di nazionalità afghana e iraniana, i quali, dopo le prime operazioni di accoglienza, sono stati trasferiti presso il centro di isola di Caporizzuto, dove trascorreranno il periodo di isolamento fiduciario. In particolare, quattro imbarcazioni sono state intercettate dalla Guardia di Finanza e condotte presso il porto di Crotone, mentre l'ultima imbarcazione è giunta spontaneamente a Capocolonna nel corso della nottata fra il 14 e il 15 di maggio. Le imbarcazioni erano partite cinque giorni prima dalla Turchia. Si tratta del quindicesimo sbarco per un totale complessivo di 1.200 migranti giunti sulle coste crotonesi dal gennaio del 2022. Negli stessi giorni presso il centro Sant'Anna sono stati trasferiti inoltre per lo svolgimento del prescritto periodo di sorveglianza sanitaria 157 migranti provenienti da sbarchi verificatisi a Lampedusa e Roccella Ionica. La macchina organizzativa coordinata dalla Prefettura con il prezioso contributo della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza ha consentito di gestire in maniera efficace tutte le operazioni, nonostante il concomitante impegno nei servizi di ordine pubblico relativi alla festa della Madonna di Capocolonna. L'intervento dell'azienda sanitaria provinciale e della Croce Rossa italiana in qualità di ente e gestore del centro di accoglienza ha garantito inoltre l'immediata predisposizione di un'adeguata assistenza sanitaria ed accoglienza ai migranti giunti sul territorio. Le operazioni di identificazione e fotosegnalamento svolte dalla Polizia di Stato, l'accoglienza dei migranti e la gestione dell'ordine pubblico al quale concorre presso il centro di Sant'Anna anche l'esercito italiana nell'ambito dell'operazione Strade Sicure hanno visto impegnati sanitari forze dell'ordine e operatori della Croce Rossa sino alle prime ore del mattino di domenica 15 maggio.